Nella vita ci sono momenti grandissimi, rari ma grandissimi, che però sono solo l'inizio di qualcosa che poi continua. Per esempio nasce una persona, è un grande avvenimento, grandissimo, eppure è solo l'inizio di una vita. Un matrimonio è un avvenimento estremamente importante, però è solo l'inizio di una vita condivisa come merito e moglie. Se finisce là con la cerimonia non ha quasi nulla di valore. Il valore certo è da celebrare quel giorno, ma è l'inizio di una vita. Se poi Dio dovesse dare a quella coppia un figlio o più, certo si celebra la nascita, ma è l'inizio di avere una vita che non finisce fino alla morte e di essere i genitori di quel figlio. Un ruolo che cambia negli anni ma rimane sempre speciali. Quindi è da capire, certo ci sono avvenimenti grandi, ma sono l'inizio di una vita che si vive, se no l'avvenimento che senso avrebbe? Simulmente la salvezza in sé è l'avvenimento più grande della vita e dell'eternità, ma è solo l'inizio di un cammino con Dio. Cioè l'idea di partorire un figlio e lasciarlo in ospedale non avrebbe alcun senso. L'idea di sposarsi e poi ognuno va per conto suo già quella sera non avrebbe alcun senso. E nemmeno la salvezza avrebbe senso se non è l'inizio di una vita di camminare con Dio. Nel nostro studio del Libro degli Atti siamo arrivati al capitolo 2. Abbiamo considerato la predicazione di Pietro in cui lui presenta chiaramente Gesù come il Cristo, il Signore, colui che può salvare chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ha parlato in modo molto chiaro dei peccati dei suoi ascoltatori e Dio, lo Spirito Santo, ha compunto i loro cuori di tanti di loro, quasi 5.000 e hanno chiesto cosa dobbiamo fare? Siamo colpevoli e lui ha spiegato ravvedetevi e siete battezzati in nome del Cristo, Gesù Cristo, quindi riconoscete pubblicamente Gesù come il Cristo, credete in Gesù come quel Cristo che può salvarvi. E oggi vorremmo riprendere il brano a quel punto, avendo visto che circa 5.000 di loro hanno ricevuto con gioia la parola, hanno creduto, sono stati battezzati e poi vogliamo vivere come vivevano da quel punto. Cioè quello è la salvezza. Ma poi come hanno vissuto? Perché Dio ci dà questo brano per insegnarci dei chiari principi di come dobbiamo vivere noi. Cioè questo brano non è solo una storiella da leggere, un avvenimento che ci mostra come vivere noi. Allora arriviamo alla salvezza in modi diversi. Chi tramite una predicazione unica, come loro, chi tramite una evangelizzazione che può durare mesi, mesi, mesi o addirittura qualche anno, chi sente un pochettino, chi cresce in famiglia sa tanto, poi un bel giorno Dio colpisce il cuore e capisce il proprio peccato. La salvezza arriva in modi diversi, ma la vita dovrebbe essere molto simile per tutti i credenti. ci sono aspetti che devono essere uguali. Una coppia può conoscersi in vari modi, ma la vita di matrimonio dovrebbe avere certe cose in comune fra tutte le coppie, no? Allora vogliamo vedere come hanno vissuto. Il brano che vogliamo considerare è dal versetto Atti 2 da 42 a 47 con lo scopo di capire meglio come vivere la vita cristiana finché Cristo non ritornerà. Oggi inizieremo con una parte del versetto 42. Quindi per darci un po' di contesto leggo dal versetto 37. Pietro aveva appena spiegato che Gesù è il Cristo e il Signore e aveva mostrato che queste persone erano colpevoli davanti a Dio. Leggo da versetto 37 Atti 2. Ora essi, la folla, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiorava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevertero la sua parola dietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E mi fermo là. E vogliamo considerare quello che dice di come hanno vissuto dopo la salvezza. E vediamo qui in versetto 42. Leggo ancora. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questo versetto è chiave. È chiave in tutto il Libro degli Atti, è chiave nella Bibbia. perché in esso vediamo un frutto della vera salvezza. Quando Dio salva una persona, lui dà a quella persona un nuovo cuore. Lo fa entrare nel corpo di Cristo. E quel cuore nuovo produce una nuova vita che viene descritta in questo versetto. ed è la vita che anche noi dovremo avere. Notate che queste persone erano perseveranti in quattro cose. Seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E vedremo il primo di questi oggi. Ma prima voglio considerare quella parola erano perseveranti. Erano perseveranti. La vera salvezza produce un cambiamento di cuore che produce come frutto la perseveranza. La perseveranza non è facoltativa. La perseveranza fa parte della vera salvezza. Infatti è un modo per riconoscere se una persona è veramente salvata o no. Nella parabola dei quattro tipi di terreni, c'è il seme che cade sulla roccia, che spunta su con grande gioia, ma non c'è radice e non dura. La perseveranza è un frutto della vera salvezza. In Matteo 24 Gesù dichiara, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. In Luca 21 Gesù dice, nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Allora, non sta dicendo che siamo salvati per opere nostre, ma la vera salvezza produce perseveranza. In Colossesi 1 Paolo sta parlando di come Dio ci ha riconciliati nel corpo e la carne di Gesù e notate che la salvezza si vede perché c'è perseveranza. Vi leggo, capitolo Colossesi 1, 22 a 24. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, quello di Cristo, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa, seppure perseverate nella fede. Essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e il cui io Paolo sono diventato ministro. Quindi siete salvati seppure perseverate nella fede. La perseveranza non è facoltativa. Uno che dice di essere salvato e poi non persevera, si riconosce che non è mai stato salvato. Grazie a Dio ci sono casi dove uno si vede che non è perseverante ma poi ritorna e può essere una stagione, ma è una stagione in cui frutto di salvezza non c'è, pace di essere salvato non c'è, Dio solo sa. Quindi la perseveranza è fondamentale. Quindi la salvezza non è un atto storico, ma no io mi sono salvato sei anni fa, ma adesso guarda come vivi, sì però sono salvato. No, se tu pensi così non sei salvato, non sei stato salvato sei anni fa. La salvezza non è un contratto che tu firmi, metti in tasca e poi vivi come vuoi. La salvezza è quando Dio ti dà un nuovo cuore, ti strappa dalle tenebre, ti metti nella luce. Cadiamo? Sì, ma c'è una differenza fra cadere e camminare nelle tenebre. Nella vera salvezza si entra in un rapporto vivente con Dio per mezzo di Cristo, un rapporto in cui si guarda Cristo come chi mi salva giorno per giorno. E questo rapporto cambia la vita, avrà frutti che vediamo in questi credenti. Visto che chi riceve la salvezza riceve un nuovo cuore, è anche giusto e naturale che è un vero credente di essere perseveranti nel cammino cristiano giorno per giorno, compreso quello che vediamo in questo versetto. E perciò vogliamo considerare questi quattro aspetti in cui erano perseveranti per vedere se noi abbiamo da crescere. Prima consideriamo che erano perseveranti nel seguire l'insegnamento delle apostole. Ora, perseveranti cosa vuol dire? Che uno continua. Che certo, ho momenti dove vengo un po' sposto, ma riprendo. Cioè, guardando la vita, tu vedi la persona lì, la vedi là, la vedi là. La grande maggioranza dei genitori con bambini piccoli sono perseveranti nel dare da mangiare ai piccoli. Sono perseveranti a cambiare i panolini. È molto rara la mamma, grazie a Dio è rara, purtroppo esiste, la mamma che proprio lascia il suo figlio piangere non gli dà da mangiare. Di solito la mamma è perseverante, cambia, cura. Non sempre che mentre crescono i genitori restano perseveranti, perché a livello fisico provvedere cibo è un discorso, provvedere la guida, lì ci sono più mancanze. Però è naturale che un genitore sia perseverante per provvedere quello che serve al figlio. Allora questi credenti erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli Apostoli. Prima di tutto, cosa vuol dire? Vuol dire che avevano un impegno costante ad ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. E questo richiedeva tempo e impegno. erano persone come noi. Avevano i loro lavori, avevano le loro famiglie, avevano i loro impegni, ma prendevano tempo, in mezzo agli studi, ai lavori, agli impegni, prendevano tempo di ascoltare assiduamente gli insegnamenti degli Apostoli. Dovevano per fare questo andare, non avevano internet. Dovevano alzarsi e andare dove c'erano gli Apostoli quel giorno per stare presenti fisicamente per ascoltare quello che avevano da dire, l'insegnamento. E per fare questo dovevano trascurare, lasciare altre cose. Non potevano fare tutto quello che facevano prima. Cioè, la loro vita, possiamo essere sicuri, prima della salvezza avevano una vita piena. È normale, abbiamo tutti una vita piena. Avevano la vita piena dalla mattina alla sera e dovevano trovare il tempo, alcuni brani parlano di tutti i giorni, ad andare ad ascoltare gli Apostoli. Quindi, il tempo da dove veniva. Quando Dio salva una persona, non fa che quella persona comincia ad avere 29 ore al giorno. Rimangono solo 24. Allora, per avere il tempo, dovevano lasciare stare qualcos'altro che prima ritenevo importante abbastanza da fare. E queste persone erano perseveranti ad ascoltare. Poi vogliamo notare che erano perseveranti a seguire gli insegnamenti degli Apostoli. Questo seguire è molto importante. Non era solo di imparare. Oh, mi piace dottrina, mi piace studiare. Eh, ma guarda la tua vita. Eh, ma sì. No. Erano perseveranti ad ascoltare per vivere quello che sentivano. Seguivano l'insegnamento. Cioè, molto più che solo ascoltare. Questo è mettere in pratica. Pensate alla dottrina degli Apostoli. Ricordate che gli Apostoli avevano imparato la loro dottrina da Cristo stesso. E poi lo Spirito Santo è stato mandato a loro per ricordare a loro tutto quello che Gesù aveva detto a loro e anche insegnare cose che prima non erano pronti. Quindi il loro insegnamento non era un loro interpretazione, non era un loro pensiero. Era l'insegnamento di Gesù Cristo, di Dio, dato a loro per mezzo dello Spirito Santo. Molto avevano sentito dalla bocca di Gesù. Questi nuovi credenti erano perseveranti nel seguire questo insegnamento. Credevano e vivevano le verità che gli Apostoli insegnavano. Ricordate che Gesù aveva comandato ai discepoli, in quello che noi chiamiamo il grande mandato, in Matteo 28, non solo di fare i discepoli, spiegare l'Evangelo che Pietro aveva fatto, e poi battezzarli, ma poi, vi leggo le sue parole, comanda insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Non ha detto solo insegnate loro tutte le cose che vi ho insegnato, no, no. Dice insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Non basta una conoscenza doctrinale. La vita cristiana è di conoscere per poi vivere, mettere in atto. Questo trasforma. Noi viviamo in una società dove spesso si fa qualche lavoro senza fattura per non pagare le tasse. Romani 13 dichiara che dobbiamo pagare tutte le tasse. Allora, tu non sei un vero credente. Se tu dici, Signore, Signore, e Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi comando? La Bibbia comanda al marito di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Eh, ma lei è questo, lei è quello. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi comando? La Bibbia dice alla moglie di essere sottomesso al marito. Eh, sì, ma perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi comando? E noi potremmo passare caso per caso. Perché non è una questione di imparare la doctrina e poi andare in chiesa, adorare Dio con tanta gioia e poi vivo con me. Voglio io. È una questione di imparare per adeguare la mia vita, sottomettere la mia vita alle verità che Dio mi insegna tramite l'insegnamento degli Apostoli. Gli insegnamenti sono da osservare, sono da seguire, e questi primi credenti erano perseveranti a seguire l'insegnamento degli Apostoli. Grazie a Dio anche noi abbiamo l'insegnamento degli Apostoli oggi, perché è quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Queste verità sono chiavi per la nostra crescita, sono da conoscere e da seguire. Infatti, il piano di Dio è che la Chiesa viene edificata tramite l'insegnamento delle verità di Dio. In Efessini 4, 11-12, leggiamo di come Cristo ha dato doni alla Chiesa. E questi doni sono uomini. E noi leggiamo di quello che Cristo ha fatto. Egli stesso ha dato alcuni come Apostoli, altri come profetti, altri come evangelisti, e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei Santi, per l'opera del Ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Oggi ci sono evangelisti, che non sono comuni, ma esistono, e pastori e dottori, che ci sono in ogni Chiesa. E il loro ruolo principale, pastori e dottori, è di insegnare le verità di Dio, che nel nostro brano di oggi sono chiamati l'insegnamento degli Apostoli. E questo serve per il perfezionamento dei Santi, la maturazione dei Santi, dei credenti. Un insegnamento fedele alla Bibbia è fondamentale per la nostra crescita come credenti. In Colossesi 1, Paolo, l'Apostolo Paolo, spiega la stessa cosa parlando delle verità che riguardano Cristo. E lui dichiara, questo è Colossesi 1, 28, noi, noi Apostoli, i nostri collaboratori, annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per quale scopo? Per presentare ogni uomo perfetto, maturo vuol dire, in Cristo, in Cristo Gesù. L'insegnamento delle verità di Cristo è il mezzo principale che Dio usa per rendere ogni credente perfetto in Cristo, che è un altro modo di dire maturo. Quindi, l'insegnamento è estremamente importante da averlo e da viverlo. Alla luce di questo, alla luce di quanto è importante avere un insegnamento fedele alla parola di Dio. Ho due osservazioni importanti che vorrei fare, perché la situazione in un dato giorno può cambiare. Quindi, prima, osservazioni, è importantissimo che ogni chiesa abbia un insegnamento molto fedele alla Bibbia. Perciò, ogni chiesa dovrebbe impegnarsi al massimo ad avere un insegnamento fedele alla Bibbia. Non è di prendere per scontato, richiede impegno. Ci sono vari modi che una chiesa può impegnarsi ad avere un insegnamento fedele alla parola di Dio. Prima di tutto, i membri della chiesa dovrebbero essi essere studenti della parola di Dio. in questo modo saranno in grado di riconoscere se l'insegnamento che ricevono è fedele alla Bibbia o no. Se i credenti non conoscono bene la Bibbia per conto loro, è un insegnante o appositamente o per spaglio spagliano il suo insegnamento, non saranno in grado di farglielo notare. Invece, se nella chiesa almeno tante persone si impegnano molto a conoscere bene la Bibbia, possono aiutare chi insegna a restare fedele alla Bibbia. Quindi, questa è la prima cosa che una chiesa può fare. Inoltre, una chiesa può impegnarsi ad avere un insegnamento fedele alla Bibbia aiutando coloro che insegnano ad essere più preparati. E ci sono più modi che la chiesa può fare questo a livello pratico. Per esempio, una chiesa può provvedere un fondo per comprare i buoni libri per coloro che insegnano. Questo è un investimento che può provvedere i benefici per tutta la chiesa. Inoltre, una chiesa può cercare di provvedere il tempo per chi insegna in modo che quell'uomo, quelli uomini possano dedicarsi di più allo studio e all'insegnamento. Ci sono tanti modi che una chiesa può provvedere il tempo per qualcuno. Per esempio, se quelli uomini fanno certi ministeri che riguardano aiuti, altri che non hanno il dono di insegnamento ma hanno il dono di aiuto possono dire senti, senti tu, passi più tempo e faccio io quello. Stiamo imbiancando la sala, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello. Ci penso io, ci penso io, ci penso io. Liberando. Ci sono sei, ci sono conferenze con buoni oratori che sono veramente fedeli alla Bibbia. La chiesa potrebbe pagare le spese per mandare coloro che insegnano in modo che vengono edificati sentono buoni insegnamenti che possono influenzare e rifericare loro aiutando loro ad insegnare meglio negli anni. È importante che ogni uomo che insegna abbia l'abitudine di leggere buoni materiali e sermoni che possono aiutarlo a crescere nella sua conoscenza della Bibbia e così nel suo insegnamento. infatti un modo utile per coloro che insegnano di crescere nel loro insegnamento è per loro di leggere gli insegnamenti di uomini e di affedeli che li hanno preceduto. Io trovo grande beneficio negli anni leggendo sermoni di altri o ascoltando ormai che mi edificano per me e mi fanno capire come posso io spiegare meglio la Bibbia. Quindi questa è una cosa da promuovere e per quanto è possibile anche se è un sacrificio un investimento di grande valore e che una chiesa dovrebbe cercare di provvedere di avere un pastore che può dedicarsi il tempo pieno nel ministero in modo che egli può concentrare molti più sull'insegnamento e la preghiera. C'è poco che può aiutare una chiesa più che avere un uomo temorato di Dio che ha il dono di insegnare che può dedicarsi all'insegnamento. Vedremo in Atti 6 quando ci arriveremo che gli Apostoli hanno capito l'importanza di liberarsi da altri impegni per poter dedicarsi alla preghiera e all'insegnamento della parola. Quindi tornando al mio punto è importantissimo che ogni chiesa abbia un insegnamento fedele alla Bibbia e perciò ogni chiesa dovrebbe impegnarsi. E' una delle cose che non ho detto e questo è grave che non ho detto è grave perché fondamentale quale sarebbe? Che non ho detto una cosa fondamentale pregare 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 per coloro che insegnano pregare per coloro che insegnano per il loro cammino vale ben poco che uno è bravo per modere di dire e di insegnare se non cammini in santità pregate per il loro impegno per il loro cammino per il loro matrimonio per il loro ruolo come genitori pregate per loro anche di amare Cristo di vedere essere meravigliati da quello che loro studiano quindi è importantissimo che ogni credente sia perseverante ad ascoltare e credere e vivere il buon insegnamento che riceve e così la Chiesa dovrebbe impegnarsi ad avere il buon insegnamento e la Chiesa può fare tanto per promuovere questo questo è importante quindi il mio primo punto è che ogni Chiesa dovrebbe impegnarsi ad avere un buon insegnamento fedele alla parola e poi secondo punto ogni credente individuale dovrebbe impegnarsi a cercare un insegnamento fedele alla Bibbia non basta un insegnamento che è piacevole agli orecchi che però contiene poco di verità quello che serve è un insegnamento costante e chiaro che è veramente fedele alla Bibbia come può un credente sapere se l'insegnamento che riceve è fedele o no alla Bibbia prima di tutto leggendo la Bibbia con cura per conto suo in Atti 17 leggiamo di come Paolo e Sila arrivarono nella città di Berea dove proclamarono l'Evangelo nella Senagoga quindi uomini che credevano in Dio e avevano le scritture notate come le persone valutavano quello che sentivano nell'insegnamento allora i fratelli di Tessalonica i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea ed essi appena vi giunsero entrarono nella Senagoga dei Giudei or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così queste persone ascoltavano attentamente quello che Paolo e Sila insegnavano a loro però poi andarono a confrontare quello che avevano sentito con le scritture per vedere se le cose erano realmente così e come ci hanno detto andiamo a vedere quante differenze farebbe nelle chiese nella nostra nazione e nel mondo se più credenti fossero così questo modo di fare sarebbe un immenso stimolo per chi insegna a stare molto attento a quello che insegna questo sarebbe una protezione grande per la chiesa chiaramente serve verificare non solo gli insegnamenti che si riceve in chiesa ma quasi di più serve verificare gli insegnamenti che si possono trovare in libri reviste e ormai diffuso in internet infatti tristemente oggi ci sono tantissimi insegnamenti diffusi in libri da case editrici evangelici o in internet che in realtà non sono fedeli alla Bibbia ci sono libri che sono pieni di eressia una grande case editrice ho scritto al direttore dicendo senti quel libro è eressia io non la vedo così è piena eressia e spesso vedi in prima pagina libri eretici abominevoli mio cuore è molto rattestato ogni volta che leggo cataloghi dei vari casi editrici che pubblicano libri e vendono libri di vari editori perché vedo prima che hanno libri che fra di loro si contraddicono completamente che già capisce che qualcosa non va non parlo di qualche dettaglio parlo in grande linea si contraddicono allora se uno promuove i libri e questi due libri si contraddicono nettamente c'è qualcosa che non va perché non possono avere tutti e due ragioni perché c'è molto l'idea di solo voler vendere i libri e accontentare tutti i vari lettori e non c'è discernimento e questo è grave la Bibbia ci avverte che ci saranno falsi dottori falsi insegnanti che pur dicendo di parlare nel nome di Dio insegneranno cose false solitamente mischiate con la verità così non è così facile di conoscere secondo Pietro 2.1 ora vi furono anche dei falsi profetti fra il popolo come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto e restire per le dizioni cioè introdurranno di nascosto non in modo palese l'insegnamento suonerà abbastanza vera ma sarà subito in secondo Timotio impariamo che tante persone cercheranno falsi insegnanti secondo quello che le dà piacere cioè le persone cercheranno falsi insegnanti secondo Timotio 4.3.4 verrà il tempo e ci stiamo verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina ma per prurito di udire si cumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole una profezia che si è pienamente adempiuta oggi in primo Timotio 4.1 leggiamo or lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni appostranno dalla fede dando ascolto a spiriti sedutori e a dottrine dei demoni Gesù aveva previsto questo quando dice Matteo 7.15 guardatevi dai falsi profetti i quali vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono lupi e rapaci e ci sono altri brani il punto è che non è una novità ma ci sono tantissimi falsi insegnanti che sono dentro la chiesa e quindi fanno molto molto danno alle chiese a causa di questi insegnamenti che non sono fedeli all'insegnamento degli apostoli quanti credenti soffrono inutilmente perché ricevono un insegnamento non fedele alla Bibbia nonostante che quando viene fatto si servono dalla Bibbia questi falsi insegnanti usano la Bibbia quanta confusione c'è quanta debolezza spirituale quanto viene fatto nel nome di Dio che non realmente porta gloria a Dio e perciò è importante che ogni credente stia molto in guardia a quello che ascolta che legge e che riceve in Apocalisse 2 e 3 troviamo le lettere alle sette chiese che Cristo ha dettato a Giovanni allora notate che con le chiese in varie cose elogiava loro questo va bene poi altre volte criticava questo va male notate quello che andava bene una delle cose nella chiesa di Efeso e lui dice io conosco le tue opere quando dice conosco è una cosa buona la tua fatica la tua costanza che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovato bugiardi cioè sono fiero di voi che quando questi uomini insegnando cose sono venuti anzi chiedi oh bene vogliamo ascoltarvi no avete messo alla prova confrontando con la scrittura e avete scoperto che non erano veri apostoli e questo è buono dice Gesù poi nella lettera alla chiesa di Pergamo Gesù critica loro perché non avevano controllato l'insegnamento e permettevano l'insegnamento falso e lui dice ho alcune cose contro di te tu e colà alcune che ritengono la dottrina di Balam i quali insegnò a Balac a porre un esidio davanti a figli di Israele per farli cadere indocendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare così eppure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti i quali sono le quali cose io odio ravvediti dunque altrimenti verrò oppresso da te e combatterò contro loro con la spada e la mia voca cioè Gesù critica quella chiesa Pergamo perché avevano insegnamento falso in mezzo a loro non avevano controllato l'insegnamento e questo è molto grave quindi la protezione più grande per una chiesa quando ha anziani che sono fedeli e veramente qualificati è che sono gli anziani che proteggono la chiesa e il loro ruolo principale è quello proteggere la chiesa dal falso insegnamento quindi quando gli insegnanti sentono perché qualcuno dice senti ho trovato questo in internet ho trovato questo libro da qualcuno fuori dalla chiesa è buono è fedele alla Bibbia dà all'anziano gli anziani quello che è un'opportunità di mostrare dalla Bibbia con chiarezza perché quell'insegnamento non è fedele alla Bibbia se è o non è e se non è perché non è e facendo così gli anziani sono stimolati a mostrare dalla Bibbia perché un insegnamento non sia fedele cioè importante quando i credenti vengono senti io sto leggendo questo sto ascoltando questo in internet che a me piace ma è pericoloso fare quello dovresti dire senti tu hai da Dio il ruolo di proteggermi allora potresti ascoltare quello e dirmi se è fedele la Bibbia perché 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 non lo facciamo spesso perché spesso non lo facciamo perché orgoglio ma io sono capace io sono capace e tante persone ma che devo chiedere a loro io sono capace io nella mia vita ho conosciuto tanti credenti che uno direbbero direbbe maturi che sono caduti in falsi dottrine perché loro si ritenevano più che pronti a poter valutare per conto loro e man mano sono stati sfiati e hanno fatto un naufragio per questo Dio ha dato gli anziani per uno scopo di proteggere una volta non c'erano libri stampati non c'era internet quindi un insegnante era una persona con carne e sangue che veniva nella città era più difficile per i credenti di sentire altri insegnamenti adesso in casa vado niente e ascolto quello che voglio allora gli anziani possono essere che è successo tante volte che conosco io con varie chiese all'ignorante che i tali credenti stanno ascoltando assiduamente da un anno finché quel giorno che lui lascia la chiesa e vanno a cercarlo no pastor non voglio parlarti ma cosa è successo no no non sono d'accordo con la dottrina e lui ha preso questa dottrina pienamente e non aveva mai detto nulla e non aveva la possibilità di essere aiutato a valutare quindi è importante ma a volte e prego che non sarà mai così ma è così in tanti posti un credente può trovarsi in una chiesa con pochissimo insegnamento e lui potrebbe verificare per conto suo che quello che sente non è fedele alla Bibbia allora cosa devi fare prima di tutto devi pregare devi pregare che loro possono avere timore di Dio e riconoscere i loro sbagli questo è importantissimo se non ci sono miglioramenti dovrebbe andare da loro cercare di spiegare forse è un errore onesto ma se non ci sono miglioramenti dovrebbe cercare insegnamento altrove allora non sto parlando di una cosa veramente piccola ogni dottrina è importante ma ci sono le cose fondamentali però se lui che non è un anziano deve cercare insegnamento altrove deve fare con grande cautela perché potrebbe facilmente trovarsi peggio di quello che ha adesso perché c'è molto che non è fedele a Dio nei libri nell'internet eccetera dovrebbe pregare molto dovrebbe avere grande impegno dovrebbe cercare un insegnamento che è chiaramente fondato sulla Bibbia e non solo su argomenti che filano bene soprattutto dovrebbe ricordare e questo è importante per chi si trova isolato Gesù Cristo è il buon pastore e quando un credente si trova isolato senza buon insegnamento e non c'è nella sua chiesa io ho poca fede ma ho visto più volte Dio provvedere per quel credente in qualche modo umanamente no signori non c'è possibilità non c'è nulla nulla in zona sua e Dio ha provveduto perché Gesù è il buon pastore quindi uno non deve essere disperato deve pregare con fede e studiare per conto suo quanto può e Dio provvederà è importante che il credente sia umile e desidera insegnamento fedele e non solo quello che gli piace quando un credente è così cioè umile e prega con perseveranza Dio provvederà in qualche modo sono stato meravigliato più volte vedendo come Dio ha curato credenti in situazioni che per me erano impossibili perché nulla è impossibile per Dio quando un credente è affamato per la parola di Dio quando vuole comprendere la verità per metterlo in pratica Dio lo curerà vogliamo ricordare che quello che abbiamo visto dei primi credenti che non solo ascoltavano ma erano perseveranti a seguire l'insegnamento degli Apostoli lo scopo dell'insegnamento non è mai di solo farti avere più conoscenza è di farti vivere nella verità che conosci la Bibbia serve come guida di vita non come materiale per superare un esame a proposito Gesù dichiara in Giovanni 7 17 se qualcuno vuole fare la volontà di Dio la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio oppure se io parlo da me stesso avete notato? il modo di conoscere la verità è di voler fare la volontà di Dio se a te piace imparare ma poco ti piace camminare Dio non ti guiderà a conoscere di più lui ti fa capire quando tu vuoi fare la volontà la chiave per crescere nella conoscenza della parola di Dio e la verità di Dio è di voler fare la sua volontà se uno vuole fare la volontà Dio provvederà per quella persona verità in modo che può fare la volontà di Dio quindi vogliamo impegnarci ad avere un insegnamento fedele a Dio ad ascoltare quell'insegnamento e a seguire quell'insegnamento dobbiamo pregare che Dio ci concedere vero questo sempre se oggi abbiamo la possibilità di avere un insegnamento perché c'è un pastore tempo pieno eccetera non è detto che sarà così domani non è detto perciò dobbiamo pregare per coloro che ci insegnano che possono essere fedele alla parola di Dio e che possono camminare in santità e dobbiamo impegnarci ogni chiesa dovrebbe impegnarsi un'altra cosa a preparare nuovi insegnanti in modo quando coloro che ci sono attualmente non ci sono più che ci saranno quelli che sono già stati preparati e questo potrebbe essere come avevo detto prima per chi già insegna dando materiali buoni mandando conferenze facendo corsi per loro vari modi vedendo ci servono altri insegnanti ci serviranno sicuramente allora questo è quello che mi colpisce in questo brano come vivevano questi nuovi credenti chiaramente guidati dallo Spirito Santo erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli Apostoli avevano un impegno a non mancare gli incontri della Chiesa Ebrei 10 25 ci comanda di non mancare le nostre comuni radunanze e la Chiesa è estremamente importante perché è lì che Dio dà l'insegnamento che edifica i credenti poi essere costanti perseveranti nel seguire l'insegnamento vuol dire leggere la Bibbia per conto proprio tutti i giorni perché in essa troviamo le verità che ci servono non solo per conoscere ma per camminare in quelle verità seguiamo questo esempio dei primi crenti a Gerusalemme perseveriamo nel seguire l'insegnamento degli Apostoli quanto è importante che riceviamo l'insegnamento fedele della Bibbia se noi non conosciamo le verità di Dio non possiamo seguire Dio anche se vogliamo perché non sapremo qual è la via cioè avremo buona volontà ma non sapremo come seguire Dio e per questo è essenziale conoscere le verità di Dio e io ringrazio Dio che ha dato pastori dottori tanti che mi hanno edificato tanto negli anni e continuo a farlo che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo che lui dà il dono di insegnare ha dato alla Chiesa chiaramente la Bibbia che abbiamo e provvede tutto quello che serve di poter conoscere e seguire le sue verità allo stesso tempo ricordiamo che ci sono falsi insegnanti e spesso è una cosa come diceva in modo nascosto cioè non è che tutto quello che dicono è falso tutti crederebbero e riconoscerebbero subito quello no può apparire molto vicino alla verità e quindi è importantissimo che analizziamo attentamente perché falsi insegnanti ci sono alcune volte sono uomini sinceri che non sono attenti purtroppo anni fa facevo io quello oppure possono essere uomini che proprio vogliono promuovere questo o quell'altra doctrina e solo perché una casa editrice è evangelica non vuol dire nulla ho visto cose abominevoli che non dovevano mai essere stampate vendute in prima pagina infatti una cosa più comune internet quanto bisogna stare attento all'internet perché trovi di tutto lì molto più di falso che di vero perché è un posto dove chiunque può pubblicare a zero spesa allora non è di solo andare a navigare trovando quello che uno trova quello è stoltezza quello è stoltezza è come che uno che sta male va in una farmacia e prende medicina a caso con occhi chiusi e comincia a prendere medicina non ha nessuna idea di quello che sta prendendo serve stoltezza bisogna capire quello che stai prendendo e quindi è importante che la chiesa abbia un grande impegno a curare coloro che insegnano per aiutare loro ad insegnare in modo sempre più fedele e sempre più chiaro è importante che la chiesa controlla bene chi insegna non lascia chiunque insegnare è importante la chiesa prepara nuovi insegnanti è importante per ogni credente essere attaccato alla parola per aiutare a verificare quello che viene insegnato quindi ci servono buone abitudini buone abitudini ci serve costanza nella lettura un piccolo parentesi su abitudini noi possiamo dare spazio alla carne in piccole cose piccole cose piccole pigrizie dove non sono attenti ma dai una piccola cosa no le piccole cose non sono piccole cose perché lasciamo spazio dentro di noi per Satana la carne vince e quello porta altre cose altre cose se io non sono allenato nelle piccole cose non posso combattere le grandi cose servono buone abitudini abitudini di leggere la Bibbia per conto proprio ogni giorno serve costanza frequentare gli incontri di chiesa ascoltare attentamente e poi mettermi davanti a Dio dicendo Signore grazie quello che mi hai mostrato e sei una verità da vivere e voglio viverla serve l'abitudine di non prendere gli insegnamenti che possono arrivare da varie fonti così ma con grande cautela e infine voglio ringraziare Dio ci ha fatto arrivare a noi l'Evangelo e continuare a farci avere anche insegnamento impegniamoci ad essere perseveranti ad ascoltare e a seguire l'insegnamento degli Apostoli che noi abbiamo nella parola di Dio e così vivremo alla gloria di Dio amando l'apparizione di Gesù Cristo preghiamo Padre ti ringrazio che ha fatto arrivare a me e a tanti di noi la verità che Pietro ha predicato quel giorno a Gerusalemme che siamo peccatori che Gesù Cristo è morto per malvagi peccatori quindi è morto per noi che Lui è il Cristo il Signore l'unico che può salvarci e tanti di noi hai salvato ma la salvezza non è la fine è l'inizio di una vita con te una vita in cui è estremamente fondamentale ed importante essere perseveranti nel seguire l'insegnamento degli Apostoli ti ringrazio per l'insegnamento che abbiamo ti prego che possiamo essere costanti e perseveranti nelle nostre vite quotidiane nella lettura personale nella lettura in casa che possiamo essere perseveranti nel non mancare le nostre comuni radunanze per sentire l'insegnamento che tu provvedi alla Chiesa aiutaci ad avere grande cautela in quello che prendiamo come insegnamento ti ringrazio per lo Spirito Santo e come ci guidi tramite la tua parola e Lui grazie oh Padre prego che possiamo camminare nella luce per la tua gloria e il nostro vero bene ti prego nel nome di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti